La nonna Aveva avuto un piccolo attacco Feci sedere la nonna su una panchina E andai a cercare un fiacre Lei mi era divenuta inaccessibile E mi vedevo costretto a tacere a lei la mia inquietudine Più che a qualsiasi passante Non era ancora morta Ero già solo Mi ero coricato per aspettare il momento in cui Approfittando dell'assenza dei miei genitori Contavo di passare la serata da Madame de Ville-Parsy Quando arrivai dal primo salone Apparve maestosa, ampia In una lunga veste di raso giallo Su cui erano attaccati in rilievo enormi papaveri neri La duchessa di Germant Per colpa sua ci verrà un mal di stomaco a tutti e due E voi, mi raccomando Non lasciatevi impressionare dalle scemenze dei medici Che diamine! Sono degli asini! Siete solido come il ponnef Ci seppellirete tutti! Applausi Grazie a tutti! Grazie a tutti